Cosa intendeva dire quando parlava del protagonismo dei capoluoghi delle regioni? Intendevo dire che ogni azienda sanitaria deve fare fronte comune perché la regione è unica, ma deve difendere il proprio territorio. Io non condivido che un medico di Matera, un medico di quest'ASM, possa percepire un'identità diversa dal medico di potenza. E questa è una battaglia che va fatta perché lì ci sono dei fondi che evidentemente sono stati spesi diversamente. Io non lo so, non è un esimente mai quando io dico che sono da un mese e mezzo, ma devo prendere contezza. Così il neocommissario straordinario dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, in occasione del seminario sul rilancio del sistema sanitario nazionale, la sfida del piano nazionale di riprese e resilienza. Un'ottima stampella, detto per risolvere le problematiche nella sanità, resta il tema del personale. Al tavolo tecnico ha partecipato, tra gli altri, la lucana Angela Stefania, Lorella Duce, ispettore generale capo per la spesa sociale di IGESPES. Creare dei centri di eccellenza, anche attraverso il PNRR, e quindi acquistare dotazioni che fanno l'eccellenza diventano polo di attrazione. È ovvio che in questo momento i medici decidono di andare dove vogliono, ma soprattutto quello che mi preoccupa è che i medici che hanno fatto il giuramento di Ippocrate molto spesso lo dimenticano, perché se se ne vanno nel privato, se anziché rimanere nel pubblico per lavorare per la propria terra o per i propri pazienti, preferiscono altro, io non li posso condannare perché sono liberi di fare quello che vogliono, ma noi abbiamo molti licenziamenti, più che pensionamenti, di gente che va nel privato e va a lavorare altrove, e non voglio aggiungere altro.